Buongiorno e bentrovati a tutti. Pace e bene. Oggi è martedì 26 dicembre ed è la festa di Santo Stefano Martire, anzi primo martire della storia dei cristiani. Ma tutti parliamo di Santo Stefano. Ma chi è Santo Stefano? Perché è così importante? Perché addirittura un giorno a lui dedicato, subito dopo il Santo Natale, è da essere rimasto ancora rosso nel calendario civile. Sappiamo che stanno togliendo tutto, no? Stanno diventando ogni cosa il più laico possibile, però Santo Stefano ancora regge. Non lo ha tolto nessuno. Nessuno ancora gli ha dato del cucù. Come certe signore maestre hanno fatto per Gesù bambino, perché io non ho capito come si sono potute permettere. Perché è come se un giorno, fra duecento anni, quando io non ci sarò più, non che io sia importante, ma qualcuno deciderà di fare una recita raccontando la mia vita, Allora, poiché io sono sacerdote cattolico di confessione cristiana cattolica, per non offendere gli altri, invece di chiamarmi Don Francesco Cristofano, mi chiamano Don Cucù. Ma siamo matti o siamo normali? Fatemi capire un attimo. Ma dove abbiamo sbattuto la testa? Gesù è Gesù. E il suo nome è potente. E il suo nome non può essere cancellato da nessuno. Io credo in Gesù Cristo. Ti piace o non ti piace? Io credo in Gesù Cristo, figlio di Dio. E la sua storia non si cancella. Perché se cancelli la sua storia, cancelli anche la tua. Ma detto questo, chi è Stefano? Stefano è uno dei sette diaconi che gli apostoli scelgono dopo la risurrezione di Gesù. Perché si era posto un problema, quello di servire le vedove e gli orfani. E quindi, anziché questo compito, assumerlo gli apostoli stessi, cioè avrebbero tolto del tempo alla predicazione, e questo è un altro dato importante. Oggi il prete tutto fa tranne che predicare il Vangelo. Scusatemi se oggi è un giorno un po' così, ma certe cose vanno dette. Allora, per non togliere tempo all'evangelizzazione, alla predicazione, scelgono dei diaconi che possano dare il servizio. E ne scelgono sette. Stefano è uno di questi, quindi sta accanto agli apostoli, è importantissimo. Solo che lo accusano di bestemmia. Lui fa un grande discorso. Dicono di lui che avrebbe detto, che Gesù ha detto che quel luogo sarebbe stato distrutto e ricostruito. E poi Stefano fa un discorso bellissimo, no? Stefano, sto contemplando i cieli aperti, è il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. E questo è l'accusa di bestemmia, perché Gesù, stato proclamato Dio da Stefano, viene preso, portato fuori dalla città così come si faceva, e viene lapidato. Tra questi presenti c'era Saulo, che teneva il mantello di uno dei sacerdoti. Saulo, che poi diventerà colui che andrà alla ricerca dei cristiani per rimprigionarli e ammazzarli, ma che sulla via di Damasco viene convertito. Ecco, il Signore quando entra nella vita la stravolge. Vi prego, vi prego, vi prego. Già oggi la fede cristiana è svenduta. Già oggi la fede cristiana è sottovalutata. Già oggi il Vangelo è stato ridotto a merce di scarto. Voi no. Vi prego, voi no. Mettete Gesù al primo posto e non vergognatevi di dire Io credo in Gesù. Io sono cristiano. E imitiamo anche la forza dei santi. Preghiamo insieme, affidiamo questo giorno al Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti. Oggi ci sarà una festa bella parrocchiale pomeriggio. Io vi pubblicherò qualche foto, soprattutto sul mio profilo Instagram. Se vi va, seguitelo, così vedrete che cosa abbiamo preparato in parrocchio. Una festa di famiglia e di famiglie. Vi mando un bacio. Gesù vi ama, e voi non deludetele o mai.